Una stazione, nessun treno e da qualche giorno neanche più una biglietteria per gli autobus. È il caso del terminal di Città di Castello, dove, come è noto, da metà giugno non transitano più i treni causa lavori sulla linea Sansepolcro-Ponte San Giovanni. Da inizio luglio, poi, come scritto su un cartello da Trenitalia, i tagliandi per i pullman che sostituiscono le corse ferroviarie sono acquistabili solo online, in rivendite affiliate o tramite uno sportello self-service, che però non è presente a Città di Castello. Niente più biglietteria, quindi, con buona pace di pendolari e turisti che si vedono costretti a comprare i ticket in ordine sparso, non senza qualche disagio. C'è molta confusione con i biglietti. Come si fa? Ti dicono che ti devi arrangiare con l'app sul cello oppure dove mi hanno detto? Adesso non mi ricordo. Comunque devi fare da te, infatti adesso è un problema. E devi fare più telefonini, io non sono brava con telefonini, internet, queste cose. Quindi ci sono dei disagi per comprare i biglietti ultimamente? Sì, perché qua non ci sono. Unica via di uscita da questa situazione è quella degli abbonamenti che dal 29 luglio saranno venduti direttamente attraverso i canali di Trenitalia. Io c'ho l'abbonamento, sono abbonata, quindi i biglietti non li compro, diciamo. Si tutela così? Sì. In tutto questo, sull'area della stazione, insistono i lavori di Ater per il recupero dell'edificio e la realizzazione di tre nuove abitazioni.